cari amici del for shooters porto di arma lunga per le guardie particolari giurate che cosa dice la legge premessa materia diritto delle armi della pubblica sicurezza l'ambito è quello del porto d'arma lunga per le guardie particolari giurate le normative di riferimento di nostro interesse oggi sono il reggio decreto 18 giugno del 31 numero 773 il testo unico di legge della pubblica sicurezza e il dm 269 del 2010 allegato di le guardie particolari giurate sono una categoria professionale fondamentale al fine di esercitare attività di controllo custodia e vigilanza in particolare nei confronti di beni sia mobili che immobili le funzioni prevalentemente svolte dalle guardie particolari giurate riguardano la vigilanza e la custodia il principale compito delle guardie giurate è quello di sorvegliare e proteggere unità immobiliari di qualsiasi natura e destinazione come ad esempio abitazioni private ma anche uffici il controllo accessi le guardie particolari giurate possono anche occuparsi di controllare chiunque voglia accedere al luogo da loro presidiato controllando un'eventuale autorizzazione all'accesso la prevenzione la segnalazione le guardie particolari giurate hanno anche la funzione di prevenire situazioni di controllo e di fare chiaramente prevenzione affinché ciò non avvenga guardie particolari giurata ed uso delle armi lunghe il porto di arma lunga per la guardia particolare giurata trova la propria disciplina all'interno dell'allegato di al dm 269 del 2010 innanzitutto qualora la guardia particolare giurata volesse poter utilizzare il fucile in servizio sarà fatto obbligo per questa di ottenere la licenza di porto di fucile per difesa personale che viene rilasciato dal questore competente quali caratteristiche deve avere l'arma lunga il fucile deve essere ad anima liscia a caricamento manuale o semi automatico con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica rimanendo quindi totalmente vietato l'impiego della munizione spezzata e dal punto di vista temporale bene la legge dice che il porto dell'arma lunga deve essere limitato al tempo percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che le impiega e regolarmente denunciata presso l'ufficio di pubblica sicurezza territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa è vietato presso gli istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o deposito di armi fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di costudirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del questore in tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovesse essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'istituto il tipo la marca e la matricola dell'arma usata in servizio che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge l'arma lunga iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria le esercitazioni al tiro presso la sezione del tiro a segno nazionale dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'istituto di vigilanza è vietato il prestito il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi compreso tra le guardie giurate ad esclusione della regolare vendita della stessa soggetto autorizzato